Il cantiere per la realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione si aprirà in Francia a fine 2012. Lo stabilisce un accordo tra Italia e Francia firmato oggi a Roma al Ministero dei Trasporti. La società che gestirà i lotti degli appalti avrà la sede legale a Chambery e la sede operativa a Torino. Una cinquantina di persone lavorerà nella nuova struttura torinese. Gli appalti saranno banditi seguendo le regole del diritto francese. I lavori per il tunnel geognostico di Chiomonte saranno affidati alla società CMC di Ravenna, la stessa società che aveva vinto la medesima gara d'appalto per il tunnel di Venaus che nel 2006 non si fece dopo le proteste della popolazione locale. Nel Consiglio di amministrazione della società operativa siederà senza diritto di voto un rappresentante dell'Unione Europea e a titolo di osservatori rappresentanti delle due regioni coinvolte, il Piemonte e i francesi di Rhône-Alpes. Il presidente della società sarà francese e sarà indicato da Sarkozy, mentre l'amministratore delegato e il direttore finanziario saranno italiani. Alla firma di questa mattina era presente per l'Italia il ministro delle infrastrutture, Corrado Passera.